Una donna è donna a 18, 30 e 50 anni. E non solo con una donna a 40, la familiarità non ha limiti ed il piano è una dimostrazione. Luana e i suoi due di per si riparazionati. E io so sapere che mi amass. E come in un riflesso, che stai qui vivendo a male. E' questa magia di tenerte a cercare quando mi respiras. Con il cuore, s'amera samos, che l'uomo a capo, che l'uomo a capo, mentre mi ruolo a tua cintura. e poi jugando a cintura. Sì, è un uomo a capo. Sì, è un uomo a capo. Sì, è un uomo a capo. Baila la panganga, che sento che l'aranga. Baila la panganga, che sento che l'aranga. Oh, 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 oh Me la vibra, me la vibra, me la vibra La vibra, me la vibra, me la vibra Me la vibra, me la vibra, me la vibra